bene buongiorno benvenuti sul canale oggi proveremo a fare dei traslarvi e userò quest'arnia a grattacielo dove sopra c'è la regina e covata fresca mentre sotto c'è solo covata o coccolata prenderò della covata fresca e farò i traslarvi qui la covata è già vecchia quindi non va bene o è vecchia o è troppo fresca ecco vedete questo favo praticamente nuovo lo stanno costruendo adesso c'è già covata ma è talmente chiaro che io faccio veramente fatica a vedere che ci siano le larve o meno quindi questo non lo posso usare il favo un pochino più vecchio mi dà la possibilità di vedere il contrasto del bianco dell'uovo con il suo fondo qui è sempre covata troppo fresca non va bene o è opercolata o troppo fresca nel nido di sotto quello inferiore praticamente sentono un po' l'orfanità ho provato a inserire un foglio di covata fresca e mi sono trovato delle celle reali per cui ho pensato che potrei fare dei traslarvi e metterli su vedete praticamente sto facendo un nido con tutti i fogli telaini nuovi questo è il favo vecchio e qui c'è perfetto per fare i traslarvi questo è il favo vecchio e qui c'è perfetto per fare i traslarvi perfetto per fare i traslarvi io non ho visto la regina ma non la stavo neanche cercando però qui non c'è di più perfetto per fare i traslarvi perfetto per fare i traslarvi ecco trovo se di volte c'è qui tutto scorte intanto chiudo faccio i miei bei traslarvi un lavoro che devo fare è quello di inserire sotto a tutti i miei Grazie a tutti. Ecco questa è la larvetta, se si vede qualcosa, devo prenderci su un po' la mano perché è un anno che non lo faccio più. E' un lavoro che ci vuole un po' di pazienza, si mette a individuare anche la larvetta giusta perché è troppo grande. Praticamente è fatto un lavoro inutile. C'è una piccola larvetta a forma di C. C'è chi usa peking cinese, c'è chi usa questo ferro qua che non so come si chiama. Io a volte ne uso uno e a volte uso l'altro. Se volete un consiglio di peking compratene magari cinque o sei perché può succedere che non sono tutti performanti. Allora tra cinque o sei sicuramente uno che funziona bene lo trovate. Allora tra cinque o sei sicuro. Praticamente vi appoggiate appena col ferro e la larvetta resta attaccata. La larvetta è praticamente ha un peso infinitesimale. Per cui resta attaccata e appena entra a contatto con l'acqua si stacca dal ferretto. E' veramente comodo. Se le prendete più troppo grosse. Praticamente fate fatica a tirarlo su. Non restano attaccate al ferretto. Ci sono quelle piccole piccole. Purtroppo non posso farvi vedere perché uno sono da solo e due non ho una microcamera. Purtroppo non posso farvi vedere perché due non sono da solo e due non sono da solo e due non sono da solo. Perfetto. Perfetto. Adesso quello che farò sarà mettere i portacupolini nell'arbia. vediamo dopo. Ecco abbiamo fatto traslarvi. Qui sono due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, ventotto traslarvi. Questa parte dell'arnia è orfana, è un'arnia divisa in due. Praticamente qui non c'è né regina né covata. Qui ho fatto ho fatto i traslarvi. Ok, ventotto. Adesso li inserisco. Ok. Adesso quello che devo fare è aprire lo sportellino laterale e chiudere l'entrata di quest'arnia, dell'arnia di destra. Ecco, sono passato un giorno e sono venuto a controllare. Praticamente sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, più o meno undici celle. Adesso lo rimetto al suo posto. Perciò. Adesso, a tutti i dati iscritti di quest'arnia. Quattro, ovulzioni. Prucciò.